Buonasera al Sarocco di Capodimonte, siamo qui con i due capitani dell'Atletico Mazzini SSCP, pieta finalissima della terza edizione, il Mundialito, Macella Deo e Enrico Platone, ciao ragazzi, per partire voglio domandare le emozioni prima di questa finalissima, è stata una bella esperienza, intanto è stato molto carino, tranne qualche fredda di mentalizzo con l'organizzazione, però tutto a posto, arriviamo a una bella partita, una finale che abbiamo già giocato più volte, cioè contro di loro, i favori del pronostico sono tutti dalla loro parte, anche perché sono campioni carico, non perché operai, però noi speriamo che l'importante è divertirci, speriamo che sia una partita corretta e poi dica il migliore. Il torneo è stato bello, ci siamo divertiti, è stato vincente, poi in finale credo siano arrivate le due squadre le più forti del torneo, l'Atletico Mazzini sono molto forte, conosco Deo da, a tempi delle superiori, ho fatto un po' di pancetta, ma tecnicamente è uno dei più forti e sono felice di giocare con loro, speriamo che andrà tutto bene, da parte nostra sicuramente sarà veramente un puro divertimento. Ragazzi, non voglio far male le vostre strategie, ma a buona a buona, la tattica che cerchete per vincere questa tattica? Vabbè, la tattica noi giochiamo sempre soliti, bene o male, cioè ci conosciamo da tempo e sfruttiamo Agato e la sua velocità e per il resto siamo sempre soliti. La tattica a me è molto difficile da capire, perché lo ricevete? Allora non ci resta che dare un in bocca al lupo a tutte e due le squadre, che vincano lì. In bocca al lupo, ragazzi! In bocca al lupo, ragazzi! In bocca al lupo, ciao!